Buongiorno ragazzi, oggi ci troviamo al Top of the Rock, a New York. Vi mostrerò un po' del paesaggio qui, di questa bellissima torre. Allora, vediamo che non so di qualcosa. Ok, le pire building. E' un paesaggio qui. E' un paesaggio. E' un paesaggio qui. E' un paesaggio. E' un paesaggio qui, con il motor rapida. E' un paesaggio centrale. Ok, puoi, puoi il button. E' un paesaggio centrale. E' un paesaggio. Questa qui è la seconda struttura più alta di New York. E comunque vale la pena, perché si fa poca fila. Il biglietto costa 30 dollari. Si può vedere benissimo quello che c'è da vedere. Si fa una piccola visione di New York dall'alto. Ora continuiamo il tour e poi facciamo il tour. Andiamo con Top of the Rock. Questa qui è una pochettina più alta. Però se ce la facciamo saliamo più su. Il nostro bottiglietto è un pochettino com'è. Facciamo un modo per salire più su. Andiamo a trovare delle scale. Speriamo che siano quelle per salire. Allora, non, non, non. Ok. Questa visione. Vincere il quarto a scale. Ok. Vediamo qui. Per bene. Wow. Spera di sedere. qui si vede davvero bene ecco questo è tutto ora vi faccio due foto ci vediamo ciao